Top and flop dei dati all'unità di ieri, lunedì 13 maggio. Al top, l'ultima puntata di Made in Sud, il cabaret girato a Napoli di Rai 2, con Stefano De Martina e Fatima Trotta, che ha chiuso una stagione gloriosa con Ascolti Record, anche ieri è stato il terzo programma più pisto della serata, dietro il commissario Montalbano e il grande fratello, commissario Montalbano su Rai 1 e grande fratello su Canale 5, ovviamente. Quindi top sicuramente Made in Sud su Rai 2. Flop invece per la 7, perché con il telefilm Body Approof, la rete di Urbano Cairo, considerata appunto la settima generalista per Ascolti, è finita molto dietro in classifica, superata nell'ordine, vado a leggere da Real Time con la clinica per rinascere, Max Payne su Rai 4, Little Big Italy su 9, The Town su Iris, Creed è nato per combattere su TV8, poi Quarta Repubblica rete 4 e Inter Chievo, il posticipo di Serie A su Sky Sport, quindi anche sulla PTV. Insomma, davvero troppo indietro in classifica per la 7, che per noi è il flop con Body of Proof. Vi ricordiamo che tutti i dati, le analisi, le ascolti li trovate sul sito tvzoom.it, noi ci vediamo domani.